per la prova di potenza con la h8 rd la huma ex la prova di organizzazione sulla bottiglia di vetro danni li fa è sicuro questa è la parte mancante del video con la h8 rd la huma ex invece con revolver della dan watson con i croni da un west non l'ho fatta ciao a tutti alla prossima